All'apice del suo splendore, Firenze fu colpita da una terribile calamità, la noia. Per combatterla, cinque amici si affidarono a nuovi rimedi. Zingarate, bischerate, cazzeggio, cazzeggio. La noia più fare! Non ce l'avete un altro nano? No! Sir Giulia, è arrivato un altro spanello, vai a pigliarlo, vai! Questa la non è in vendita, l'è troppo pericolosa! Perché? Che l'ha fatto? Il padrone precedente l'ha tagliato l'uccello. La compro! Brutto bucaiolo, non ti sei aiutato a comprarla. La schiava, lei di tutti! Jacopo, ma che sei buco? Buco? Sodomita! Aiutatemi, amici! Fermi, fermi! E c'è un equivoco, è un nesso domita. Gli taglio anche voi. Vergogna, sudicione! Allora io boh, godetevi la partita. Ma dove tu fai? È cominciata ora. A posto, il legnaiolo l'ha impegnato. Ma che ti trovi la moglie dell'Alderighi? Apri testa! Oggi è il mio maristo? O chi c'è a casa mia? Casa tua! Questa non è casa mia! Tu sei Matteo Sarbelloni! Io non sono Matteo, io sono gli Alderighi, il legnaiolo! Guardate che se il legnaiolo rimane a Firenze, prima o poi, la verità la vien fuori! E quello m'ammazza! M'ammazza! Ti preoccupare te, stai difendo io. Sicuro? A te t'ammazzavi il primo. Oh Savonarola! Morire è andare in penno per una srombata! Una beffa come la vostra vale la pena portarla avanti. Merita coronarla degnamente.